Tappa di festival show di Marcon, Vale Center, provincia di Venezia, la quarta tappa, siamo qui con il fenomeno musicale dell'ultimo periodo Fenomeno bellissimo anche direi tra l'altro, io non li avevo ancora visti dal vivo ma ragazzi miei, complimenti Grazie, sono Emiliani, sono Benji e Fede Ciao a tutti Strepitosi, tra l'altro per chi avesse voglia di vederli abbiamo anche i loro saluti sulla nostra pagina facebook, ricordiamolo perché comunque sia, è sempre bello postare un qualcosa dei nostri artisti Devi sapere che questi due, di fare i cantanti proprio non ne avevano idea, di vivere situazioni live, grandi concerti come questa sera proprio non ne avevano idea Come è successo? Il buon, eri tu Fede che postavi online su youtube i tuoi filmati, suonavi e un giorno, t'ha visto il qui presente? Sì, tutti e due, ci siamo visti vicenda su youtube e siamo apprezzati, allora abbiamo deciso di fare una band insieme e fare i video insieme poi su internet Hai visto? E da lì una salita infinita Sì dai diciamo che siamo ancora all'inizio Siamo all'inizio ma ci fa piacere che comunque ci sia già una piccola parte di persone che ci supportano e questo ci fa molto molto Piccola parte, ma hanno urlato in delirio erano le donne stasera Il fatto di aver aperto i concerti italiani degli Shepard dell'altra famiglia, Shepard famosissima, personaggi da classifica No beh certo Il live è comunque un percorso importante per noi che ci piace suonare in molte situazioni, nel senso che sia stasera davanti a un sacco di gente E che sia comunque davanti a 50-100 persone, l'importante è suonare perché la gavetta è la parte più importante adesso Che bello, fino di pensiero perfetto, non sbaglia eh Al festival show ci siete arrivati, pensate di puntare magari anche al festival, quello famoso che si fa a febbraio Eh guarda Quasi grande Di quali fazioni si parla? Quello della riviera Festival di Sanremo Nostro sogno Lavoreremo tanto poi se viene bene Se no comunque noi continuiamo a lavorare Noi non ci fermeremo di sicuro, però è chiaro se viene bene L'ultima domanda, pensate di continuare a puntare i vostri singoli su Youtube o pensate di mettere in opera qualcosa di decisamente concreto? Allora, noi adesso stiamo lavorando comunque sul nostro primo album e ci stiamo lavorando appunto in questi giorni, prossime settimane andremo a registrarlo in studio e speriamo che esca intorno a settembre E dovrebbe uscire anche la copia fisica, quindi sicuramente il web sarà sempre una parte importante del nostro percorso Però in questo caso andrà anche nei negozi il disco, quindi Quanti anni avete? 22 e 21 Ragazzi poi occhi azzurri tutti e due, biondi, simpatici, umili, ragazzi le carte ci sono tutte E adesso non le non diriamo All in signori, all in, andiamo avanti Gli ingredienti ci sono naturalmente Speriamo dai Vabbè vi auguriamo tanta fortuna, grazie per Grazie a voi per la disponibilità Vecce e fede con noi su Radio Bella e Monella Ciao Ciao